Bisogna esserci per cambiare il modello di sviluppo, l'attuale modello di sviluppo di produzione rischia di far saltare il pianeta, di far finire le risorse che ci sono e per questo è necessario cambiare le politiche, cambiare i modelli produttivi ed è necessario costruire una cultura che unifichi una riconversione ecologica dell'economia con i diritti, con i diritti nel lavoro e con la qualità e la democrazia del paese. Per fare questo serve cambiare anche la politica di austerità, serve un piano straordinario di investimenti ed è importante che questo elemento si costruisca con l'azione delle persone, con l'azione dei governi, con le azioni delle istituzioni. Quindi il 29? Quindi il 29 ci saremo, del resto anche oggi daremo spazio e voce dentro ad un percorso e non può certo finire il 29. Grazie. Grazie.